Il progetto Le Vie del Viandante è un progetto internazionale Italia-Svizzera, un interreg che è capofilato per la parte italiana dal comune di Lecco e per la parte svizzera dalla regione Moesa che propone come novità questo prodotto turistico che è un cammino internazionale che dal San Bernardino attraverso tutto un reticolo di sentieri storici passando per il lago di Como arriva lungo l'Adda al centro di Milano, chiaramente anche viceversa. Il prodotto turistico è stato costruito ed è stato presentato alla BIT di Milano attraverso uno strumento che è il catalogo confidenziale dell'offerta. Contemporaneamente, sempre alla BIT, il comune di Lecco ha invece fatto la promozione istituzionale, quindi la sinergia tra il pubblico e il privato ha portato dei risultati interessanti. Abbiamo raccolto numerosi contatti di tour operator stranieri interessati alla nostra proposta. All'interno del catalogo ci sono sia pacchetti preconfezionati dai tour operator che partecipano al progetto, sia tutta una serie di fornitori che possono rappresentare l'offerta alberghiera, la ristorazione, le attività ricreative e i servizi e quindi siamo pronti per affrontare i mercati internazionali. Cosa è piaciuto di questa proposta? Allora, è piaciuta la suggestione del cammino, sicuramente, che era un po' la nostra idea, cioè quella di proporre un cammino di una certa lunghezza che potesse interessare e suggestionare il pubblico. La proposta culturale, la storia dei nostri territori sono sicuramente piaciute. È piaciuta la suggestione di poter fare un cammino sul lago di Como e la possibilità di poter incontrare la nostra cultura, la nostra gastronomia, la nostra storia attraverso anche, non necessariamente un cammino sportivo, ma brevi tratti che possono però essere esperienze uniche. Qual è il primo bilancio di questa iniziativa dal punto di vista operativo? Sicuramente per noi la sensazione è di un successo, perché abbiamo sperimentato un metodo attraverso questo progetto che era quello di, diciamo, lavorare insieme all'ente pubblico, dividendoci un po' i compiti, insomma, supportando l'ente pubblico nella promozione dell'offerta turistica, ma anche lavorando insieme agli operatori del territorio per arrivare tutti insieme ad un risultato professionale ed efficace. Quindi il metodo, diciamo, ha sicuramente avuto un'affermazione di successo. Adesso si tratta di renderlo, cioè di moltiplicare questo successo in tutta una serie di occasioni.